Ha fatto del suo bar un vero e proprio laboratorio privato di invenzioni. Giovanni Sanasi di Erchi è il conosciutissimo barman dell'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria e anche inventore di sette oggetti utili, semplici e antispreco, tra dei quali brevettati. La lattina antigermi con rivestimento biocompostabile in amido di mais e cannuccia bioannessa, la stampella che sta in piedi da sola, il tappo basculante per la bottiglia del latte, il contenitore in plexiglass riciclabile per cornetti, la mezza bustina di zucchero da 3 grammi, rigorosamente in carta compostabile, ma anche la camicia termica per il latte, il bicchiere di vetro dimezzato e poi, dulcis in fondo, il disciplinare del caffè in ghiaccio. Una delle prime mie idee è che si tratta di Magic Opening, che sia il tappo magico. L'idea mi è venuta per semplificare, per ergonomizzare ovviamente il lavoro e l'utilizzo della bottiglia di latte al bar. Questo serve un contenitore per croissant, un prodotto brevettato ovviamente. Abbiamo vinto un concorso nazionale, il Bar Awards. Eccolo qua, sull'orlo della lattina, germi, batteri, polveri. Abbiamo intanto annesso una cannuccia, però biodegradabile e compostabile. L'ho termoconfezionato non in plastica, ma bensì con almido di mais. Frizzante, carismatico e geniale. Giovanni ama il suo lavoro, lo fa con passione e soprattutto inventiva. Il genio manduriano dà la doppia vita e anche supportato da diversi collaboratori nella grafica e nella promozione. Le sue idee nascono dai bisogni concreti, dalle necessità che si presentano ogni giorno nel suo bar, evitando sprechi, ottenendo risparmi, ma soprattutto offrendo al cliente un servizio ecosostenibile, originale e fatto con amore.